Tutto tace nel mondo del futsal nazionale. I club chiedono a gran voce al presidente della divisione Calcio A5 di chiudere definitivamente l'attuale stagione e di iniziare a programmare la prossima. Nei giorni scorsi è toccata la Serie B intervenire durante il consiglio direttivo in videoconferenza. La federazione si è confrontata con i club degli otto gironi. Ognuno ha eletto un rappresentante per il raggruppamento G. Il portavoce è stato il patron della Chaminade Domenico Scarnata. Le richieste portate in consiglio non si discostano da quelle presentate e in alcuni casi già messe in pratica in altri sport. Per pensare ad una ripartenza bisogna emanare dei protocolli sanitari univoci e ben chiari sulle norme a tutela della salute di tutte le figure impegnate nelle attività, comprese le misure da attuare all'interno dei palazzetti, sia in fase di allenamento, sia in fase di gare ufficiali con o senza pubblico. 8 i punti esposti e condivisi da tutti i club da nord a sud. Decretare la fine del campionato immediatamente considerando le classifiche attuali chiuse al 1 marzo 2020. Avanzare una concreta ipotesi in collaborazione attraverso la Lega Nazionale di Direttanti FIGC con il governo per l'ottenimento di un credito d'imposta a favore delle società che decidono di sponsorizzare le ASD o altre misure di finanza agevolata equivalente. Istituire un decreto salva squadra e facendo decidere alle formazioni, secondo le possibilità, di partecipare al medesimo campionato di appartenenza, di poter retrocedere nei campionati regionali senza penalizzazione o di candidarsi a partecipare al campionato di Serie A2 sempre, secondo dei meriti sportivi a punteggio e gradatorie. Iscrizione gratuita al campionato 2020-2021 garantita a tutti coloro che già hanno disputato la competizione nel campionato 19-20. Tesseramento gratuito per atleti, tecnici e dirigenti. Modifica di prestazione da fideiussione bancaria o versamento contanti a prestazione di fideiussione assicurativa. In merito al regolamento e abbassamento del numero di stranieri nelle distinte da 4 a 3 unità, comunitari ed extracomunitari, e introduzione di 2 Under-23 e 2 Under-19 all'interno delle distinte di gara, pur mantenendo il minimo di 8 formati e di un italiano. Per l'Under-19 mantenere la possibilità di 3 fuori quota scalare con anno 2001. In ogni caso si è chiesto di voler procedere alla restituzione della cauzione versata a fronte dell'iscrizione 2019-2020. La fideiussione a inizio stagione è stata versata alla divisione o in banca. Questo permetterebbe al soggetto titolare di questo impegno di poter affrontare il momento di crisi economica scaturita da questa pandemia. Se non sarà possibile effettuare l'iscrizione alla prossima stagione in maniera gratuita, le società hanno proposto un'altra opzione. La restituzione del 30% della tassa di iscrizione al campionato di Serie B e Under-19 relativo alla stagione 2019-2020, terminata tra l'altro con tre mesi di anticipo. Il rimborso del 30% dell'importo totale dell'assicurazione di calciatori e dirigenti di questa stagione è un effettivo e concreto dimezzamento della quota di iscrizione ai campionati per la prossima stagione. Unito ha un piano rateale e comodo che consenta alle società di pagare e sostenere la restante quota dell'iscrizione. Queste le proposte presentate al Consiglio Direttivo della Divisione Calcio A5. Le società adesso restano in attesa di un risponso da parte dell'organo federale. Se queste decisioni non venissero accettate, probabilmente nella prossima stagione molte società potrebbero sparire dal panorama nazionale.